Una donna di 62 anni, Raffaella Ludovici, è stata rinvenuta a cadavere questa mattina nella sua abitazione di via Giordano Bruno a Sulmona, a traversa di Porta Napoli. La morte, stando ai primi accertamenti, risale almeno a due giorni fa. Sarebbe stato un malore a stroncare la vita della donna. Il corpo è stato rinvenuto, prono, in cucina. A dare l'allarme è stata la sorella che questa mattina, intorno alle 11, ha fatto l'amara scoperta. Sul posto, per i rilievi di diritto, è intervenuta la squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, mentre tocca al medico legale eseguire la ricognizione cadaverica. La donna, molto conosciuta e apprezzata in città, viveva da sola. Era dipendente della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. L'episodio ha destato sgomento e tristezza, soprattutto fra i residenti della zona, che si sono riversati in strada. Una mattinata tutt'altro che tranquilla.